Musica Mafia, corruzione, affari milionari in Lombardia dilaga la malavita organizzata 15 arresti, commissariate 4 direzioni generali dai supermercati Lidl i tentacoli della piovra avevano agguantato anche il servizio di vigilantes del tribunale ai domiciliari tra gli altri una dirigente del comune di Milano giovedì la sigla ufficiale in prefettura del nuovo accordo sui migranti quasi 3000 resteranno a Milano gli altri 5000 troveranno ospitalità nei comuni dell'Interland dove un'ottantina di sindaci ha detto sì al protocollo si oppongono solo i leghisti pronti ad alzare le barricate Matteo Salvini domina come da pronostico le primarie della Lega e conferma la linea del suo partito mettendo di fatto in minoranza la giunta regionale guidata da Maroni l'opposizione chiede elezioni anticipate Bossi intanto è quasi fuori dal partito Buonasera dal TGN enorme operazione antimafia tra Milano e Catania nel mirino dei magistrati quattro direzioni generali della multinazionale dei supermercati Lidl addirittura anche il servizio di vigilantes Palazzo di Giustizia a Milano la mafia era arrivata fino all'interno del tribunale milanese 15 gli arrestati tra questi ai domiciliari anche una dirigente del comune di Milano che è stata sospesa dall'amministrazione pubblica mette un po' in ordine in questa ennesima brutta notizia Alberto Carreras 15 persone arrestate 2 fermate effettuate 60 perquisizioni stamane nel corso di un'operazione antimafia coordinata dalla direzione distrettuale di Milano tra Lombardia e Sicilia associazione delinquere favoreggiamento e corruzione le accuse avanzate il bilancio è stato fatto dal procuratore aggiunto Ilda Boccassini e dal PM Paolo Storari nel mirino le attività criminali della famiglia mafiosa catanese Laudani sono state poste in amministrazione controllata a quattro direzioni generali della multinazionale della grande distribuzione Lidl con oltre 200 punti vendita la società tuttavia non risulta indagata le indagini riguardanti la Lidl hanno accertato che sapevano chi corrompere quali fossero le persone giuste da corrompere ha dichiarato Ilda Boccassini sono stati seguiti i passaggi di denaro il denaro raccolto a Milano veniva consegnato alla famiglia Laudani ha sottolineato la responsabile della DDA milanese con l'amministrazione giudiziaria i magistrati puntano a ripulire la Lidl da infiltrazioni mafiose ci sarebbero state omissioni nei controlli verso alcuni appalti sospetti nei confronti del gruppo criminale ritenuto vicino ai Laudani gli arrestati avrebbero costituito un'associazione a delinquere che ha favorito gli interessi a Milano e provincia della famiglia catanese su appalti Lidl riguardanti l'organizzazione della logistica e l'allestimento di nuovi supermercati il rifacimento di quelli già esistenti e le manutenzioni periodiche ci sono anche alcune società del consorzio che ha in appalto la vigilanza privata al Palazzo di Giustizia di Milano tra le attività commerciali destinatari delle misure cautelari emesse nella giornata di oggi sarebbero emersi stretti rapporti tra alcuni dirigenti delle società coinvolte e poste in amministrazione giudiziaria e alcuni personaggi ritenuti appartenenti alla famiglia Laudani tra gli arrestati un sindacalista in pensione che lavorava per la provincia di Milano Domenico Palmieri secondo le accuse veniva stipendiato dai clan catanesi per avere contatti con politici locali i magistrati gli contestano il reato di traffico di influenze è finita agli arresti domiciliari una dipendente del comune di Milano Giovanna Afrone accusata di corruzione in un appalto del settore scolastico avrebbe promesso a Palmieri di affidare alle imprese di uno del clan catanese i singoli appalti delle pulizie delle scuole sotto la soglia dei 40.000 euro di valore a fronte dell'impegno di ottenere di essere trasferita al settore bilancio della provincia e al trasferimento della cugina al settore informatico del comune di Milano la presunta associazione per delinquere con legami con la cosca mafiosa dei Laudani di cui abbiamo sentito adesso il servizio avrebbe avuto a disposizione alcuni informatori e tra questi anche una persona lo stato non identificata che avrebbe rivelato agli indagati quanto appreso direttamente attraverso il fascicolo dell'indagine sul tavolo di lavoro del procuratore questo emerge dall'ordinanza firmata stamane dal GIP Fanales il gruppo, spiega il giudice vantava un rilevante capitale di relazioni personali idonee a procurare informazioni sensibili circa le indagini penali pendenti si tratta di una rete di rapporti intrattenuti dagli associati con soggetti esterni all'organizzazione e vicino agli organi di polizia in grado di rivelare notizie coperte dal segreto di ufficio al di là di questo linguaggio magari un po' tecnico un po' burocratico c'era sostanzialmente una talpa si sospetta la presenza di una talpa vicino alla polizia tra gli informatori si parla nell'ordinanza viene citato un capitano è un maresciallo della guardia di finanza non identificati e di un colonnello del nucleo di polizia tributaria di Como lui si identificato quindi talpe diciamo così che avevano accesso a documenti importanti per quanto riguarda l'indagine un'indagine che avrà sicuramente ancora dei seguiti nei prossimi giorni nelle prossime settimane continuiamo con la cronaca una serie di notizie purtroppo non belle a cominciare dalle condizioni dell'uomo di 56 anni che l'altra sera sabato sera mentre tornava a casa a Milano è stato aggredito da un gruppo di ragazzi per aver protestato contro gli schiamazzi era stato colpito con un'ombrellata che cosa è accaduto stava rientrando intorno a mezzanotte con la moglie c'era un ragazzino che con uno scooter stava facendo delle scorribande su un parchetto pubblico di fronte alla casa all'abitazione di questa coppia il 56enne ha rimproverato questo ragazzo ma è stato a sua volta immediatamente circondato da altri giovani 4-5 in tutto si cercano le immagini di alcune telecamere si spera di arrivare a un'identificazione e questi malviventi l'hanno malmenato l'uomo è in condizioni definite critiche dai sanitari dell'ospedale Humanitas in pericolo di vita è andata molto meglio invece a un giovane di 22 anni che l'altra notte la scorsa notte all'interno del parco solari a Milano dopo aver salutato gli amici è stato aggredito da tre coetanei lui ha 22 anni i tre che lo hanno aggredito 20, 21 e 25 lo hanno minacciato e colpito superficialmente con dei coltelli l'hanno rapinato in qualche modo però lui è riuscito ad avvertire i carabinieri ha fornito una descrizione di chi l'aveva dei suoi aggressori e questi tre fortunatamente sono stati immediatamente presi e carcerati sono a San Vittore abbiamo sempre dato il TGN da sempre e ha sempre dato notizia delle occupazioni di edifici pubblici l'abbiamo spesso spesso seguite anche con passione sempre con grande rigore di cronaca stavolta però quanto fatto da un gruppo di anarchici nei pressi di Viale Certosa un'occupazione nei pressi di Viale Certosa si può definire semplicemente odioso sentiamo perché e di che cosa si tratta nel racconto di Anna Maria Braccini un gesto sacrilego ai confini del reato la cui stupidità vuota offende questa è la netta presa di posizione della Curia di Milano espressa attraverso un comunicato firmato da Don Davide Milani portavoce del cardinale Angelo Scola e direttore dell'ufficio delle comunicazioni sociali della diocesi in merito al grave gesto compiuto da un gruppo di anarchici che occupando abusivamente uno stabile dei padri passionisti in zona certosa a Milano hanno esposto un lenzuolo con una scritta blasfema rivolta a Maria a sfondo sessuale nel giorno in cui tutta la chiesa ha celebrato la Madonna di Fatima il 13 maggio anche a Milano con molti riti si è festeggiato il centenario della prima apparizione della Vergine ai piccoli della cittadina portoghese e decine e decine di migliaia di persone prosegue il comunicato sono transitate dal Duomo per venerare la madre di Dio pregare e trovare conforto nelle prove della vita fa particolarmente male apprendere dell'oltraggio che da settimane si sta consumando in città in via Gadames non si comprende quale quanta intelligenza ci sia in questo gesto sacrilego appunto ai confini del reato spiega il pronunciamento a essere feriti continua Don Milani insieme ai cattolici di questa città sono tutti milanesi che guardando la Madonnina si sentono protetti e trovano in questa presenza ragioni di speranza libertà religiosa e anche poter essere tutelati nel rispetto dei segni della propria fede conclude il comunicato l'odioso episodio è stato denunciato dal sito di famiglia cristiana e la diocesi in merito ha chiesto un intervento chiaro contro una simile oscenità un operaio di 55 anni è morto stamane dopo essere stato travolto dal crollo parziale di un solaio avvolta mentre stando a una prima ricostruzione era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione in uno stabile a Bellagio nel Comasco a dare l'allarme un collega dell'uomo inutili i soccorsi anche con l'elicottero del 118 l'operaio è morto prima di giungere all'ospedale di Como è stato aperto un fascicolo per cercare di stabilire le cause di questo omicidio colposo andiamo invece al protocollo migranti che sarà siglato ufficialmente giovedì in prefettura si tratta di quasi 8.000 persone che saranno spartite tra Milano dove ne resteranno circa 3.000 2.692 per l'esattezza 2.692 mentre le altre 5.000 saranno divise in 80 comuni dell'Interland giovedì in prefettura a Milano alla presenza del ministro dell'interno Marco Minniti ci sarà la firma del protocollo per l'accoglienza dei profughi nei comuni dell'area metropolitana saranno un'ottantina i sindaci che firmeranno il documento impegnandosi a ospitare gruppi di migranti in una percentuale basata non solo sul numero dei residenti ma anche per zone omogenee in questo modo in pratica raddoppia il numero dei comuni che daranno ospitalità un lungo lavoro di coinvolgimento e convincimento è stato portato avanti dal prefetto Luciano Lamorgese che ha trovato il via libera da parte del ministro Minniti la scorsa settimana a Milano e appunto il governo nel piano nazionale ha fissato in 7.774 il numero di profughi che dovrà essere accolto nell'area metropolitana milanese di questi poco più di 5.000 dovrà trovare collocazione nei paesi dell'Interland e 2.692 nel capoluogo Lombardo che invece adesso ne ospita 3.600 ad esempio 708 migranti verranno destinati all'alto milanese 597 nel Magentino 654 nel sud ovest 477 nel sud est un migliaio a nord est e via dicendo complessivamente sono 110.000 i profughi che sono transitati da Milano la maggior parte si è poi trasferita in altri paesi del nord Europa ma adesso con le frontiere chiuse ha visto un incremento esponenziale il numero di domande per ottenere asilo in Italia il protocollo che verrà firmato con i comuni darà maggiore peso alle richieste dei sindaci non verranno utilizzate ex caserme non verranno stipate persone negli alberghi e l'arrivo dei profughi sarà annunciato con largo anticipo per fare in modo che i comuni possano organizzarsi anche il sindaco di Paderno Dugnano Marco Alparone di Forza Italia ha deciso di firmare il protocollo da quanto si è preso sarà l'unico del centrodestra i sindaci del Carroccio hanno continuato a dire no a ogni possibile accordo e a questo proposito proprio sul no dei sindaci della Lega c'è da registrare una dichiarazione uscita poco fa del segretario della Lega Lombarda segretario regionale Paolo Grimoldi il quale dice che al tavolo convocato per giovedì i sindaci della Lega Nord come hanno sempre fatto finora ribadiranno il loro no al recepimento di richiedenti asilo su base volontaria e ribadiranno al prefetto di distribuire le loro quote sui sindaci del PD che tanto li accetteranno per non disobbedire ai diktat del partito questa è la posizione della Lega e questa però la settimana a proposito di migranti a proposito di razzismo o antirazzismo è la settimana che ci conduce alla manifestazione di sabato 20 maggio se ne parla da parecchie settimane ormai l'attesa è tanta sarà una grande manifestazione di piazza della Milano antirazzista e domani ci sarà una sorta di prove generali alla stazione centrale che lo scorso 2 maggio come tutti ricorderanno è stato teatro di quel blitz contro chi da tempo bivaccava lì di fronte e peraltro magari anche se in misura minore ha ripreso a farlo dopo il 2 di maggio ebbene dicevo le prove generali perché perché si disputerà una proprio davanti alla stazione una partita di calcio antirazzista ci sarà no davanti alla stazione no ci sarà il reading e ci sarà un concerto la partita di calcio antirazzista sarà all'arena civica alle 18 e 15 giocheranno la coppa dell'accoglienza la squadra del progetto Arca United contro la squadra dei richiedenti asilo di via Corelli il reading invece di fronte alla stazione dove anche ci sarà questo concerto aperitivo per tutti organizzato da fondazione Arca che gestisce l'accoglienza alla stazione operativo per tutti il couscous ecco quindi chi chi non gradisce queste cose è meglio che stia alla larga dalla stazione invece chi vuole vedere un anticipo di quello che poi accadrà sabato può andare a guardare ad assistere a questi eventi domani ripetiamo Matteo Salvini ha vinto le primarie della Lega e le ha vinte largamente come era ampiamente previsto ha dato un po' subito dopo l'incoronazione la riconferma a segretario federale ha dato un po' ha ribadito quella che sarà la linea del partito allora sentiamo questo servizio che un po' inquadra le parole di Salvini ad ampio spettro poi c'è una ricaduta molto stretta molto serrata che invece riguarda la Lombardia ma questa l'approfondiamo dopo via servizio mi auguro che non esca ma non metterò il guinzaglio a nessuno lo ha detto oggi il leader della Lega Nord Matteo Salvini riferendosi alla minaccia di Umberto Bossi di lasciare il partito all'indomani della vittoria alle primarie del Carroccio da parte di Salvini che ha ottenuto l'82,7% dei consensi il numero uno di questo partito oggi ha parlato a tutto campo in una conferenza stampa se Bossi vuole bene alla Lega legga i numeri e ci aiuti Salvini ha confermato il programma di portare il Carroccio in tutta Italia con ieri ha sottolineato il segretario federale non sono un uomo solo al comando il federalismo e il sovranismo vanno nella stessa direzione Salvini ha lanciato una frecciata anche all'alleanza con il partito di Alfano chi regge il moccolo a Renzi alla Boschi non può essere nostro alleato non si può fare una cosa a Roma e un'altra qui insomma ha bocciato il progetto di Roberto Maroni di presentarsi alle elezioni regionali del 2018 con la stessa alleanza attuale Salvini su questo punto è stato categorico a livello nazionale e regionale la scelta passa da me e la Lega non sarà alleata di Alfano e su Forza Italia il leader del Carroccio ha detto che Berlusconi sull'immigrazione deve decidere noi stiamo valutando azioni di ogni tipo per fermare gli sbarchi con le buone o non con la legalità o la quasi legalità quello che la magistratura sta appurando in Calabria deve essere un monito al governo perché sull'immigrazione c'è un giro d'affari di 5 miliardi di euro i migranti rendono di più della droga la legge elettorale deve essere maggioritaria il proporzionale che vuole Berlusconi è incoerente la Lega domani vota per il maggioritario punto se Berlusconi vuole le mani libere per poi allearsi con Renzi non so cosa farci Salvini chiede di rendere nuovamente obbligatorio il servizio militare non quello civile perché i giovani devono saper maneggiare un'arma in conclusione il segretario ha affermato che da oggi il suo partito ha una voce unica e chiunque dica qualcosa fuori posto si può accomodare fuori dalla porta è abbastanza chiaro che di tutte queste cose dette oggi da Salvini la più diretta per quanto riguarda la Lombardia è la questione legata all'alleanza con Alfano che non sarà a livello nazionale e non sarà addetto il neosegretario nemmeno a livello locale però che cosa succede che in questo momento in regione Lombardia la maggioranza si basa proprio sull'accordo tra la Lega Nord e gli altri due principali partiti del centro-destra ovvero il Forza Italia e il partito di Alfano ebbene se non si alleeranno alle elezioni della prossima primavera l'opposizione dice ma allora non sono già più alleati nemmeno oggi ed ecco che vanno a chiedere a gran voce subito dopo che ha parlato Salvini vanno a chiedere le dimissioni di Maroni e le elezioni anticipate per esempio il segretario del PD Lombardo Alfieri dice Salvini ha vinto Maroni ha perso il congresso della Lega si è concluso ieri e quindi è la sonora sconfitta del modello Lombardia delle alleanze di centro-destra e della linea autonomista della Lega invece Chiara Cremonesi per SEL dice le parole del segretario leghiste in tema di alleanze sconfessano il presidente Maroni e la sua maggioranza sempre che una maggioranza esista ancora il Movimento 5 Stelle attraverso il capogruppo Fiasconaro dice Salvini ha staccato la spina a Maroni noi siamo pronti per le elezioni anticipate ora di garantire ai Lombardi dice il Movimento 5 Stelle un governo regionale e non una cozzaglia di forze centrifughe in disaccorto su tutto eccetto che sulle poltrone da mantenere vedremo che cosa succederà se davvero si potrebbe arrivare a questa clamorosa rottura Maroni ha parlato poco fa e ha ribadito che non intende dimettersi e che anzi l'alleanza proprio pochi minuti fa l'alleanza con l'Alfano e Forza Italia è salda e solida vedremo che cosa succede un'ultima notizia che arriva dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale della Lombardia quest'anno a differenza di quanto accaduto nel 2015 e nel 2016 non darà il patrocinio al Milano Pride l'appuntamento annuale della comunità omosessuale si è appreso oggi al termine della riunione dell'ufficio di presidenza a favore hanno votato i rappresentanti del Partito Democratico e dei 5 Stelle contro ha votato il presidente Raffaele Cattaneo e la consigliera Daniela Maroni della lista Maroni non ha votato si è astenuto il vicepresidente del consiglio Fabrizio Cecchetti il cui voto a favore era stato decisivo nelle ultime due edizioni stavolta non ha votato in quanto non c'è stato una maggioranza il regolamento prevede che in assenza di maggioranza il patrocinio sia stato respinto stessa cosa è accaduta sempre oggi per il torneo di calcio anche questo patrocinio aveva sollevato polemiche negli scorsi anni dell'associazione Caramella Buona contro la pedofilia un torneo di calcio organizzato da un gruppo considerato vicino alla destra estrema è davvero tutto per questa edizione ricca di notizie quanto mai ricca di notizie del TGN ho il tempo abbiamo il tempo per ricordare che dopo di noi ovviamente il meteo come sempre e poi il calcio stasera con Michele Lanati per fare un passo indietro su questa domenica ricca di colpi di scena ma dalle 20 e 30 abbiamo parlato tanto di politica nel TGN e se ne parla ancora ne parlerà ancora la padrona di casa della politica Telenova ovvero Adriana Santacroce bella puntata questa sera con il faccia a faccia dedicato a due assessori alla sicurezza Rozza del Partito Democratico che assessora la sicurezza in comune Bordonali invece del centrodestra e assessora della Lega assessora in regione quindi comune regione stesso di Castero un po' di idee vediamo quanto saranno si può vedere quanto sono diverse le politiche poi velocemente perché il tempo corre il talk con l'assessore Granelli Gianluca Comazzi capogruppo di Forza Italia Paolo Guccioni del comitato Bayres Venezia il collega Fabio Massa giornalista come tutti sanno di affari italiani e poi il pneumologo Roberto Boffi dell'Istituto dei Tumori di Milano è davvero tutto lo sport e poi linea d'ombra grazie per averci seguito noi e il TGN torniamo domani come sempre 19 e 15 restate con Telenova